Ragazzi, oggi insieme a mia sorella prepareremo la calza della Befana, ufficiale DGT Creation, che sarà disponibile a mezzanotte il 1 gennaio 2021. La calza sarà disponibile in due diverse dimensioni, oltre prepareremo quella grande. All'interno troverete 4 slimes, tantissimi cioccolatini come questi e una golla Elmers. Ragazzi, ovviamente le due dimensioni di questa calza avranno dei prezzi differenti e ovviamente delle sorprese differenti. Saranno esplicitate nelle inserzioni del sito, quindi non vi preoccupate. Io vi consiglio di attivare il countdown che è nelle storie di Instagram, così potrete rimanere super attivi nel momento in cui saranno disponibili queste calze in edizione super limitata. Ovviamente all'interno troverete anche la carta nell'attivatore e niente, ecco qui prontissima la calza. Dio, stupendo pio. Dio, stupendo pio. Grazie a tutti.